La natività di Gesù Come è riuscito a mettere insieme tutte queste cose per addobbare la casa? Con un po' di buona volontà, un po' di impegno, non per andare solo a fare una gita, ci vuole anche questo. Una gioia per i bambini visitare questa casa? Certo, certo. L'importante è vedere il bambinello Gesù in tutte le stanze, quella è la cosa più bella.